Chi controlla il meteo, controllerà il mondo. Vice Presidente Johnson, 1963. Un caro saluto a tutte e tutti. Vediamo alcuni spezzoni di questo video. No, non preoccupatevi se non riuscite a sentire quello che sto dicendo. Non riesco a sentire nemmeno me stesso. Questo è il suono più forte che potresti concepire. E adesso risulta il più pulito. Il più pulito. Ora, la cosa più sorprendente è quella nuvola lassù che è stata generata dal motore. È solo una miscela di idrogeno e di ossigeno. È vapore d'acqua. E tra circa un'ora qualcuno in Mississippi si prenderà l'acqua. Pioverà per davvero. Ve l'avevo detto. Sta piovendo. È incredibile. La NASA gioca a fare Dio. Aspettate qui per il meteo. Potete vedere il video per intero dal titolo La NASA gioca a fare Dio, a cui accedete attraverso il prezioso indice alfabetico alla voce NASA gioca a fare Dio, suono e nuvole generate dal carburante, o dalla fornita playlist Geo Ingegneria con oltre 114 video, tutti decisamente interessanti. Per chi non lo sa, il mondo come ci appare è così perché hanno fatto in modo di farcelo apparire così, per produrre paura e sottomissione da innumerevoli decenni. Prima della breve traduzione di parte del discorso che ha fatto l'allora vicepresidente Lyndon B. Johnson, è doveroso informarvi che nel 1963 c'erano solo due satelliti presunti in orbita. Vedete nella schermata lo Sputnik russo e l'explorer americano. Il terzo, Asterix, è stato messo in orbita dalla Francia nel 1965. Però la tecnica è sempre la stessa. Raccontano le cose come se avessero la sufficiente conoscenza, meglio esperienza, di una materia, in questo caso dei satelliti, che non hanno. I frequentatori di questo canale sanno che i satelliti non esistono, come non esiste lo spazio, a differenza dei credenti indottrinati dal sistema. Aggiungo anche che gli pseudosatelliti meteo non sono e non sarebbero in grado di modificare il meteo. Pertanto vi invito a porre attenzione al messaggio. E questo messaggio chiama per nuove frontiere, nuove visioni. Ci chiama per fare il passo ora che non ci farà rimanere ancora secondi nello spazio, è mole. Colloca il predicato e la fondazione per le comunicazioni spaziali e satellitari che possono permettere alla gente del mondo di vedere un programma televisivo allo stesso momento in tutto il mondo. pensate a questo tipo di comunicazione e pensate anche all'opportunità che può offrire. Colloca il predicato e la fondazione per i satelliti meteorologici. Questo può permettere all'uomo di determinare lo strato nuvoloso del mondo e in definitiva di controllare il meteo e chi controlla il meteo controllerà il mondo. Colloca il predicato per i passi necessari per inviare l'uomo sulla luna. Pone il passo necessario per provvedere i razzi nucleari. Questo produrrà di benefici così illimitati che non potrei parlarvi di lui del presidente se avessi recitato. Ma questo è il tipo di mondo dove vivete. Per le vostre libere ricerche ricordo l'indice alfabetico con oltre 3.000 voci dal sito web www.tinelli.eu. Trovate decine e decine di playlist dei miei video, non di altri. Inoltre accedete anche ai video sgraditi, oltre a tutte le novità, che trovate sempre all'inizio della pagina che sono pubblicati su piattaforme alternative. Non perdete queste predibatte chicche che molti non vogliono divulgare. Grazie di essere arrivati fino in fondo.